Buonasera, buonasera. Basta! Buonasera! Basta! Una giornata di divertimento e spenseratezza per gli ospiti del Maruffi si è trasformata in una passerella, la casa di riposo, dove nel pomeriggio è andata in scena una vera e propria sfilata di moda. A organizzarla sono stati gli attori dell'officina Money Comics che hanno indossato per l'occasione gli abiti d'epoca di Sant'Antonino 34 Vintage e si sono esibiti in una serie di gag e spettacoli per i pazienti della struttura. È un'iniziativa che rientra tra le altre diverse, questo probabilmente è a un livello superiore perché i maniconi sono notoriamente bravissimi, però rientra tra le tante iniziative che cerchiamo di svolgere per i nostri ospiti. C'è una presenza obiettivamente di tutto il gruppo che lavora presso Maruffi sia in questa sede sia nella sede di violenza e una costante presenza al benessere dell'ospite che vada dalla cucina al divertimento a queste occasioni.